Amici del campionato universitario, buonasera da Riccardo Lionetto e benvenuti al Sant'Ambrogio Palace di Milano ma in scena il match fra Erta Vernello e Real Alltower valido per la quinta giornata di seconda divisione Real Alltower 3 su 3 dunque punteggio pieno al netto della partita che non è stata disputata per via del riposo quindi si gioca ancora per mantenere alta la squadra, mantenere la china, mantenere la vetta mentre all'altra parte però c'è l'Erta Vernello che ha 6 punti in 4 gare e dunque in caso di vittoria guanterebbe proprio il Real Alltower match dunque interessante, una sorta di match clou, vediamo dunque cosa può accadere passiamo alle formazioni, nel Tavernello schiera Cavallo, Di Giorgio, Gobbo, Lunardi, Marchioni, Pastore, Rodolico, Rotunno e Scarmoncin il Real Alltower invece schiera Olivari in porta, Gerini, Marino, Migliardi, Perrotta, Tonon, Vecchio e Lamberti il direttore della serata è il signor Calaio, dunque sulle punte di battuta c'è la Real Alltower, si comincia l'Erta Vernello, Cavallo, sbaglia Cavallo, attenzione poi Perrotta vediamo, Perrotta prova a girarsi, si gira molto bene Perrotta va a servire Lamberti che la prova, sul fondo vediamo parte Perrotta, traversa non è finita però, occhio ancora con Marino la mette in mezzo, la girata sul fondo da parte di Gerini Cardi perde il possesso, lo recupera ancora però il Tavernello la palla arriva a Tronne che la sbuccia attenzione allora Gobbo, col destro Olivari, prima occasione per il Tavernello Tonon Lamberti in avanti Lamberti, attaccato da Scarmoncin la palla arriva comunque a Marino di nuovo Lamberti Perrotta, si gira, col destro vediamo Lamberti sul punto di battuta va col destro la deviazione finisce qua il primo tempo dunque 0-0 le parziali qui alle Sant'Ambrogio Palace fra Real Old Tower e Derta Vernello Saper ricominciare la ripresa di questa partita fra Real Old Tower e Derta Vernello 0-0 ancora le parziali qui alle Sant'Ambrogio Palace di Milano fischia ora le signore Calaio comincia a secondo tempo comincia a secondo tempo parte Gerini dalla sinistra il cross il colpo di testa è il vantaggio di Perrotta 1-0 passa avanti la Real Old Tower Perrotta 1-0 1-0 dunque e adesso Derta Vernello deve reagire metti giù il pallone va a cercare Perrotta in aria Perrotta col Mancino sul fondo Miliardi poi larga adesso per Vecchio in aria Lamberti Lamberti punta al fondo Lamberti mette in mezzo la palla passa Gerini 2-0 2-0 il gol di Gerini il gol di Gerini 2-0 2-0 convalidato convalidato 2-0 e adesso si fa complicata per l'Eerta Vernello gara invece in discesa per la Real Old Tower adesso ha provato un tiro da lontanissimo cavallo che è finito direttamente fra le braccia di Olivari per Rotta Marino con calma vediamo giro largo miliardi vecchio in avanti vecchio Gerini allarga proprio per Marino la conclusione alta attenzione miliardi viene avanti sulla destra vecchio Gerini la conclusione la risposta di Pastore vecchio sulla destra ancora per Rotta vecchio la mette in mezzo attenzione miliardi la prova per Pastore in qualche maniera attenzione adesso a Gerini la deviazione Pastore e poi vecchio sul fondo attenzione adesso Lamberti 3 a 0 Lamberti match è chiuso 3 a 0 dunque ha segnato Lamberti che incorona una gran prestazione a dire davvero poi Lamberti di nuovo Marino sbaglia Marino attenzione ripartenza Rotundo contro Rivari Rotundo Rotundo salta Rivari attenzione Rotundo salva Marino cavallo lancio lungo di cavallo Rotundo sul fondo e questa è la prima vera grande occasione del match per l'Air Tavernello finisce dunque il match 3 a 0 a favore della Real Hall Tower sull'Air Tavernello dal Sant'Ambrogio Palace dunque è tutto un saluto da Riccardo Lionetto grazie a tutti